Ciao a tutti, oggi torniamo a parlare di romanzi ma si cambia genere, andiamo sul genere poliziesco, no, umoristico, no, noir, o un misto di tutto, perché no? È il ritorno di un grande personaggio che io ho adorato durante la mia adolescenza, perché è stato il periodo in cui l'ho scoperto, si parla di Benjamin Malossin in uno degli ultimi libri di Daniel Pennac. Prima di continuare vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Sigla! Dunque è il ritorno di un grande personaggio, Benjamin Malossin. Il caso Malossin, mi hanno mentito, è uscito nel 2017 ed è stato pubblicato nel 2018 da Feltrinelli, primo volume di una storia divisa in due volumi. Però questo, quando ho cominciato a leggerlo, non lo sapevo, pensavo che fosse un libro intero, come è sempre stata la saga di Malossin. Quindi, prima di parlare nello specifico di questo romanzo, accenniamo un attimo alla famiglia Malossin, o comunque alla saga riguardante la famiglia di Malossin, per chi non avesse mai letto i suoi romanzi. Tadam! Si tratta di una serie di noir polizieschi basati appunto sulla figura di Benjamin Malossin e sulla sua famiglia. E quindi questo è il malloppone della mia adolescenza. Benjamin è il più vecchio di una numerosa famiglia, si contano tre sorelle e tre fratelli, tutti con la stessa madre, ma padri diversi. Quindi la madre non c'è mai, è sempre innamorata di qualcuno di nuovo ed è sempre in giro per il mondo a godersi la vita col suo nuovo amante. Poi ogni tanto torna a casa a partorirne un altro, però vabbè. La mamma è sempre la mamma, anche per Benjamin. Quindi, essendo il più vecchio di una famiglia numerosa, deve mantenere questa famiglia. E quindi lavora come capro espiatorio. Sì, avete capito bene, fa proprio il capro espiatorio. Com'è possibile? Beh, prima nei grandi magazzini di Parigi, poi a una casa editrice, la casa editrice del taglione. Diciamo che occupa un ruolo fittizio, per esempio controllo tecnico, poi in realtà si prende le mazzate quando arrivano dei reclami. Per esempio, un frigorifero prende fuoco e incenerisce la cena di Natale che una signora aveva preparato con cura per più di 20 persone. Ovviamente, ma lo sen viene chiamato nell'ufficio reclami dal suo superiore e gli dice Ma non è lei il controllo tecnico dei frigoriferi? Sì, sì, signor Lehmann, è esattamente così. Insomma, parte il mazzo che è tanto duro che farà ritirare al cliente o alla cliente la lamentela, facendo così risparmiare i grandi magazzini. E quindi questo è lui. Gli altri personaggi sono la sua famiglia, i suoi amici, famiglia molto allargata in realtà perché conta anche amici di famiglia, poi da amici abbastanza strambi, ma sono in realtà tutti molto strambi i personaggi di Daniel Pennac, soprattutto in questa saga. Si tratta di personaggi molto coloriti, portati all'esasperazione nella loro caratterizzazione. Sono molto disneyani sotto un certo punto di vista, cartuneschi. Sono personaggi maschere, indossano una maschera e non la tolgono mai. È vero che forse non li fa maturare, ma è perché incarnano diversi tipi di umani. Una sorta di archetipi della società occidentale. Poi cos'ha di particolare questa serie di libri? In ogni libro avviene un omicidio di cui Benjamin poi viene incolpato. Anche se lui non ne ha assolutamente colpa, lui non c'entra proprio nulla, è la persona più buona del mondo. Però, essendo capro espiatorio per eccellenza, per vocazione addirittura alcuni gli dicono, viene sempre incolpato. E quindi è questa sorta di personaggio quasi fantoziano nella sua sfiga. E è qua che nascono appunto le scene comiche o anche grottesche, perché ci sono un sacco di avvenimenti grotteschi. Io sono sempre stata molto affezionata alla famiglia di Malo Sen, ai fratelli e alle sorelle, e in particolare alla sorella Therese, che era la mia preferita. Una darchettona dedita all'occultismo. Adoro Therese. Ora arriviamo al romanzo. Il caso Malo Sen mi hanno mentito. Ho scoperto l'uscita di questo romanzo quasi per caso. Non so esattamente cosa stavo cercando, forse proprio informazioni sui libri di Daniel Pennac. Per vedere cosa poteva essere uscito da poter leggere, oltre ai libri dedicati a Benjamin Malo Sen. E ho scoperto che era uscito il caso Malo Sen. Trac! Mi si sono adrizzate le antenne. E allora l'ho preso subito, ovviamente. Ero molto felice che fosse tornata la famiglia Malo Sen. Dopo molti anni, infatti l'ultimo, prima di questo, era stato pubblicato nel 95, se non sbaglio. Ed erano passati un po' di anni, per cui più di 20. E all'interno della storia sono passati 17 anni. Ed è qua il problema. È vero, dopo molti anni si torna a parlare della famiglia Malo Sen. Ma, essendo passati 17 anni, si passa il testimone ai figli. Ai figli, al suo figlio, il figlio di Clara e la figlia di Therese. Anche Benjamin, sì, è sempre protagonista, ma non lo è più tanto come nei romanzi precedenti. E questo, forse, mi ha dato un po' l'idea di star sì leggendo qualcosa sulla famiglia Malo Sen. Ma non così tanto come in passato. Perché, appunto, cambia il punto di vista. Si passa alla generazione successiva. E questo, forse, mi ha lasciato un po' delusa. Non me l'aspettavo. Pensavo che fosse ambientato sempre negli anni 80, in cui sono rimasti congelati i personaggi dei primi cinque romanzi. Cinque. Cinque romanzi più una storia. Ma parliamo della trama. Trama che all'inizio ha fatto fatica a seguire, forse a causa della delusione. Infatti, dopo un po', non riuscivo a prendermi. Perché mi aspettavo altro. E quindi, non riuscivo a leggerlo con costanza. Non si capiva niente, di conseguenza. E quindi l'ho accantonato prima di finirlo. Stavolta, però, ho deciso di riprenderlo e di finirlo. Sapevo già cosa mi aspettava. E quindi l'ho letto molto più volentieri. Benjamin, che è sempre direttore editoriale per la casa editrice del taglione, sta nascondendo uno dei loro autori, Alceste, che è in pericolo di vita per ciò che scrive. Si scaglia contro la famiglia. Appunto, mi hanno mentito il titolo del libro. E si capisce bene o male perché è un po' arrabbiato, ma non si capisce perché i fratelli e le sorelle cerchino di ucciderlo. Quindi, vabbè, Benjamin deve nasconderlo su ordine della regina Zabo, che è la capa della casa editrice del taglione. E questa è una parte della storia. Nel frattempo, Georges Lapietà, che è l'amministratore del potente gruppo Lava, viene rapito dopo aver venduto il gruppo e licenziato tutti i suoi dipendenti. E a causa di una sua patologia, durante il rapimento, rischia di morire. Ovviamente, Benjamin non ha nulla a che vedere con tutto questo, perché era altrove. Si faceva gli affari suoi, ma tutti i sospetti convergono su di lui. Quindi, non vi dirò altro della trama, il piacere della scoperta a voi. Parliamo invece dello stile, che ho ritrovato con molto piacere. Per cui, i classici personaggi di Pennac, che sono un po' personaggi macchietta, le situazioni assurde e i neologismi, e in generale proprio lo stile che rende unico questo scrittore. Più unico, che raro. Una prosa eccezionale, tutta sua, mai letta da nessun'altra parte. E poi questo stile un po' strano di narrare. Mi spiego. Ci sono molti punti di vista. E ogni punto di vista viene raccontato in maniera diversa. Ci sono narratori diversi. Può essere Benjamin Malossin, che parla al passato prossimo. C'è Alceste, che parla al presente. Altri personaggi che parlano in terza persona al presente. diversi narratori che parlano in maniera molto differente l'uno dagli altri. A seconda proprio del punto di vista. E poi si tratta sempre di polizieschi. Quindi ogni indizio è importantissimo. Ogni parola è una parola chiave. Ogni singolo indizio è fondamentale da tenere a memoria. Niente, niente, nessun avvenimento, nessuna parola sono lasciati al caso. Ho i gatti che hanno l'ora della pazzia. Quindi bisogna mantenere un alto livello di concentrazione per non perdere il filo. Però questa prosa molto particolare è proprio ciò che amo di Daniel Pennac. Insieme ai suoi personaggi, personaggi maschere e comunque uno stile travolgente, un ritmo alto, ma che non è facile. Insomma, non è un libro per tutti. In generale, Daniel Pennac non è un autore per tutti. Quindi alla fine non mi aspettavo nemmeno che fossero due volumi. Cioè, io ho visto il libro, l'ho preso e buonanotte. Quindi sono rimasta un po' delusa quando alla fine del libro non solo non si era risolto nulla, ma addirittura rimaneva qualcosa in sospeso. Molto in sospeso. Perché questo primo romanzo è tutto incentrato sul rapimento della pietà. Però ho come la sensazione che anche la questione di Alceste abbia una parte molto importante, ma non in questo libro, probabilmente nel secondo. Però finché non esce e ancora non si sa quando esce, chi lo può dire? L'unica mia speranza è che nel frattempo, mentre esce nell'attesa che esca il secondo, è quella di non dimenticarmi gli avvenimenti del primo. Perché essendoci molti indizi, molto fitti, se si dimentica qualche particolare, poi è facile perdersi e non riuscire più a riprendere il filo del discorso nel secondo volume. Ed è per questo che non mi è piaciuto molto che proprio questo tipo di libro sia stato lasciato sospeso a metà. Forse non era da fare con questo tipo di romanzo, ma vabbè, ci sarà un motivo dietro a questa scelta. E quindi questo conclude la recensione, però non ho ancora finito di parlare, perché voglio accennare, fare un breve accenno al film che è uscito nel 2013 sul Paradiso degli Orchi, che è il primo dei libri. Vabbè, prima di tutto è ambientato nella seconda decade del 2000, non più negli anni Ottanta, e questo ha portato a dei cambiamenti all'interno della storia, anche abbastanza importanti, però di base rimane sempre la stessa storia, o comunque mantiene lo stesso, la stessa atmosfera di poliziesco, un po' noir, ma anche comico. Vi consiglio di vederlo perché secondo me è spassosissimo, e anche molto, non so come dire, è stato reso in un modo molto cartunesco quasi. Se non volete per forza noleggiarlo, potete trovare alcune clip su YouTube, ho controllato e appunto sono disponibili alcune clip dal film. E poi vabbè, la famiglia è stata un po' resa diversa rispetto a quella che è l'originale, per esempio le sorelle Luna e Clara, che sono due sorelle diverse, Luna non abita più con la famiglia già da un po' di anni, però diciamo è stata assorbita da Clara e addirittura Clara in questo film è incinta, in realtà è incinta Luna, non Clara nel romanzo. Ma vabbè, sono dettagli che però non intaccano il senso del film che ha mantenuto quello del libro. E quindi vabbè, come libro in sé consigliatissimo, consigliatissimo, io consiglierò sempre Daniel Pennac, in qualsiasi salsa. Se non avete letto ancora i primi libri, mi raccomando fatelo, perché sono spassosissimi, almeno il primo dovete leggerlo, secondo me. Io non sono da polizieschi, è un genere che non mi interessa, però Il Paradiso degli Orchi è veramente fantastico, così come tutti gli altri libri, perché non è il classico poliziesco. È di base come storia un poliziesco, ma mescolato con altri generi ed è molto umoristico. Ci sono scene veramente troppo spassose e personaggi indimenticabili. Quindi detto questo, direi che la recensione è stata lunghissima, per cui io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me. Commentatemi, raccomando, fatemi sapere se avete letto questo autore, questi libri, fatemi sapere cosa ne pensate, io sono sempre molto curiosa di sapere la vostra. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me anche oggi, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!